Un pescatore con la sua barca usciva a pescare ogni mattina e quando aveva pescato due pesci tornava a riva. Uno lo teneva per mangiare, l'altro lo portava a un ricco che gli comprava un pesce al giorno. Un giorno la cuoca del ricco, aprendo il pesce che il pescatore aveva portato, trovò un diamante e poiché era una donna onesta andò dal padrone e gli disse quello che era capitato. Non dire niente a nessuno e soprattutto al pescatore, disse il ricco, se taci ti aumento la paga di un soldo la settimana. La cuoca non parlò per qualche giorno ma poi le venne il rimorso e andò a raccontare tutto al pescatore. Il tuo padrone non mi ridarà mai il diamante, disse il pescatore, chiederò aiuto al re. Così andò dal re e gli raccontò la faccenda. Quando il re l'ebbe sentita mandò a chiamare il ricco e disse, hai trovato un diamante nel pesce che ti ha venduto quest'uomo? Il ricco capì che la cuoca aveva parlato e rispose, sì maestà, ma l'ho tenuto perché il pesce mi è stato venduto ed è diventato mio e quando uno possiede una cosa possiede anche quello che c'è dentro. Il re chiamò tre vecchi giudici e chiese, chi possiede qualcosa? Possiede anche quello che c'è dentro? I tre giudici parlarono, disbigliarono, confabularono e poi dissero, sì maestà. Allora il re disse al pescatore, hai sentito? Ho sentito, se la giustizia è questa io l'accetto, disse il pescatore. E tu hai sentito? Chiese il re al ricco. Certo che ho sentito maestà, disse allegramente il ricco. dunque la cosa è risolta, disse il re. Tu pescatore te ne puoi andare. E io? Disse il ricco sorpreso. No, tu no, rispose il re. Perché questo castello è mio e siccome tu sei dentro a qualcosa che è mio, sei mio anche tu. Resterai sempre qui e mi farai da servitore. Il ricco implorò, supplicò, pianse, ma non ci fu niente da fare. Dovette fare il servitore del re. Dopo una settimana il re gli disse, vuoi tornare a casa tua? Certo maestà, disse il ricco. Se mi dai quanto vali io ti lascerò andare. E quanto valgo maestà, chiese il ricco. Hai lavorato bene in questa settimana. Io dico che il tuo valore è quello di un diamante, disse il re. Il ricco mandò a prendere il diamante e lo diede al re e tornò a casa a testa bassa. E il re cosa fece del diamante? Lo mise in un pesce di vetro e lo mandò in dono al pescatore che si comprò una barca nuova, gialla, rossa e azzurra.